Come state? Ben ritrovati, un saluto a tutti, aggiornamento, breaking news, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, numerosissimi mi raccomando, ci tengo. Nella giornata appunto di Pavlovich ci sono situazioni in entrata che si stanno sviluppando, ma anche in uscita, e le uscite servono anche per le entrate, ormai lo sappiamo. Ebbene, sembra piuttosto fermo, al momento la situazione di Ben Nasser, che potrebbe restare, per me dovesse restare, sarebbe un grande colpo la conferma di Ben Nasser, con l'aggiunta di Fofanà ad esempio. La situazione invece che per il Milan è più calda in uscita è quella di Yassin Adli, che tra l'altro ieri ha fatto gli anni, Adli che ha un paio di proposte da un paio di club arabi. Ebbene, il Milan sarebbe più che favorevole accederlo in Arabia Saudita, dove possono portare un conguagno importante, il Milan lo valuta 15, potremmo arrivare a 12-13 milioni di euro, fare anche una plusvalenza e avere risorse da investire, per un giocatore che è stato di fatto bocciato da Paolo Fonseca, che non vuole confermarlo, così come anche dalla dirigenza. Il problema è che Adli in questo momento nicchia, o meglio dice no, vuole provare a giocarsi alle sue chance, un po' come ha fatto Salemakers, per far ricredere il mister, ma le sue chance al momento non le sta vedendo, nell'ultima partita ad esempio non è neanche entrato, ha giocato Florenza al suo posto, in un ruolo diverso dal suo, poi si è fatto poverino anche male, e questi sono chiari messaggi che il tecnico sta mandando, d'accordo con la società ad Adli. Il Milan prova un po' a spingerlo fuori, perché poi se esce e porta dei soldini, il bilancio ne trae giovamento, ma ha anche la possibilità di andare a prendere magari un altro centrocampista, oltre a Fofanà, che per il Milan deve arrivare con o senza l'uscita di Yasin Adli, e come dicevamo oggi ha parlato il DS del Monaco, che ha fatto anche se vogliamo una minaccia, non l'ho commentata su Milanello, però c'è anche questo, come dire, o mi accontentate, oppure il giocatore può andare via a zero tra un anno, e chi si è visto, si è visto. Questa è la situazione, ditemi che ne pensate, e che cosa vi augurate su Adli e sul resto, commentate numerosi qui sotto, lasciate un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella numerosissimi, ci vediamo eventualmente più tardi, un abbraccio a tutti, e buon proseguimento di giornata quasi finito questo luglio. Un saluto, grazie.